Amici sapete che vi parlo spesso di quanto sia importante il consumo di frutta e verdura durante la giornata. Quanta vi chiederete? Allora, vi do due semplici regole per capire quanta e quale. La prima è quella ormai famosa delle cinque porzioni. Eh sì, è molto semplice perché si raccomanda di assumere almeno due porzioni di verdura e tre di frutta al giorno, come minimo ovviamente. Per una porzione si intende un frutto, due o tre frutti piccoli, un'insalata, mezzo piatto di verdure, una coppetta di macedonia oppure un buon succo. La seconda regola è quella di basarsi sui colori. Variare quindi la frutta e la verdura in base a diversi colori per assicurarsi di fare il pieno di tutti i nutrienti necessari. Ma come fare per portare in tavola delle idee originali? Allora io, grazie agli amici di Urom, mi sto divertendo a preparare degli estratti pieni di vitamine. Ho scelto un estrattore perché è più delicato nell'estrarre il succo rispetto a una centrifuga o a un frullatore. Praticamente coccola la frutta e la verdura conservando integre le caratteristiche nutrizionali. È davvero pazzesco, ma non solo. Sapete che le fibre fanno bene alla nostra salute e alimentano il nostro microbiota. Grazie a Urom posso portarne un'importante quantità a tavola. Tutto questo è davvero super e prossimamente vi pubblicherò anche qualche ricetta proprio preparata insieme ad Urom.